ciao a tutti ragazzi e ragazze bentornati sul mio canale come prima cosa vi ricordo subito se ancora non l'avete fatto di iscrivervi al mio canale cliccando al tastino che trovate proprio sotto al mio video e attivare la campanella così da non perdere le prossime uscite e che vi aspetto anche su instagram ma come al solito sotto nell'infobox trovate tutti i link di riferimento per quanto riguarda i miei social oggi parliamo di detersivi e mi sono arrivati due kit meravigliosi sapete che ho la passione dei detersivi tante sono come me ma la cosa bella di questi kit è che fanno del bene e al nostro pianeta perché appunto e quando compriamo e possiamo comunque farlo insieme sia noi che l'azienda perché quando andremo a comprare un kit della cleni e non solo decidiamo di pulire in modo ecologico e sostenibile ma andiamo anche a piantare un albero grazie alla collaborazione con l'organizzazione ed en reforestation project spero di averlo pronunciato giusto comunque ve lo lascio scritto anche qua sopra e quindi il progetti di riforestazione di eden aiutano appunto a ripristinare foreste sane e a ridurre appunto la povertà estremo in alcuni paesi emergenti e in collaborazione appunto con gli abitanti dei villaggi locali e questo progetto ha portato alla piantagione di oltre 300 milioni di alberi in tutto il mondo quindi in paesi come etiopia madagascar nepal haiti indonesia mozambico kenia e america centrale quindi già da questo io penso che sia una cosa spettacolare e loro sono per il motto riciclare e ricaricare e riutilizzare neanche di meglio e dobbiamo sapere che quasi 50 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica in europa rimangono come rifiuti ogni anno quindi la tazza del caffè della settimana scorsa lo lo spazzolino che abbiamo usato vent'anni fa o comunque il sacchetto di plastica e del supermercato di tre mesi fa sono tutti ancora sul nostro pianeta quindi solo fino ad ora solo una piccola percentuale e viene riciclata la missione appunto di clani è rendere possibile un mondo un po migliore e insieme a chi acquista stanno cercando stanno dichiarando guerra alla le bottiglie di plastica usa e getta fanno in modo che i loro prodotti arrivino a casa nostra senza micro plastiche molti non sanno che i microscopici frammenti di plastica che si trovano in molti prodotti per la pulizia tradizionale possono significare un alto impatto ambientale quindi loro dicono addio all'emissione di co2 le loro bottiglie sono progettate per durare a lungo quindi quando compriamo il loro kit una volta sola paghiamo solo le pastiglie di ricarica impacchiettano i loro prodotti con minimo materiale necessario in modo da diminuire gli sprechi e cercano anche di ridurre la plastica dove possono ecco perché appunto usano cartoni rivoluzionari fatti con erba di pascolo che fa risparmiare fino al 96 per cento dell'acqua usata per la loro produzione cosa importante non si trasportano più inutilmente bottiglie di plastica usa e getta e che contengono appunto molta acqua e poco principio attivo e risparmiamo appunto un media del 94 per cento di co2 la loro missione appunto è mantenere la nostra calma pulita senza inquinare il nostro ambiente sono prodotti e che producono in germania ma i prodotti clini e sono appunto usati ovunque danno molta importanza alle condizioni in cui vengono create le loro pastiglie per la pulizia e per questo motivo sono fabbricate in germania osservando strettamente le norme ambientali tedesche quindi pensate che una loro piccola pastiglia carica di potere è carica di potere pulente lo sporco ostinate le macchie non hanno scampo appunto con i kit di clean con le loro clean tabs che puliscono appunto o appunto a fondo ogni tipo di superficie poi dovete sapere che in media una famiglia consuma in un anno circa 50 bottiglie di plastica monouso e molti prodotti chimici inutili solo per i prodotti di pulizia è per questo che loro assicurano che tutti i loro prodotti siano sviluppati e fabbricati nel modo più efficiente possibile e tutti i loro prodotti sono fabbricati senza microplastiche e quindi sono facilmente biodegradabili e vegani la cosa più importante è che per loro la soddisfazione dei loro clienti va sopra ogni cosa e quindi sono talmente sicuri che ameremo i nostri kit della clinica in ogni caso loro ci danno una garanzia soddisfatti o rimborsati al 100 per cento dell'ordine quindi per qualsiasi motivo ti rimborseranno volentieri l'intero prezzo d'acquisto e questa garanzia si applica su a tutti i prodotti ed è valida per 30 giorni completi dalla consegna ma adesso passiamo ai kit che ho ricevuto alla fine del video vi farò vedere anche li metteremo all'azione insieme quindi vedrete sia come si preparano i detersivi che è semplicissimo e sia e come agiscono appunto sullo sporco il primo kit che vi mostro questa appunto è la scatola che come vi dicevo è stata progettata con erba da pascolo quindi già qua è una genialità all'interno troviamo questo è il kit starter lo starter kit questo viene chiamato quindi troviamo sempre la brochure con le indicazioni su come utilizzare i prodotti e all'interno troviamo tre bottiglie in plastica al 100 per cento riciclata sono poi bellissime con queste fantasie e ogni bottiglia ha il nome del prodotto da utilizzare il colore corrispondente quindi troviamo questa che dovrebbe essere il cleni e multi uso questo che è per il bagno per questo invece che ha per i vetri con l'azzurro e poi in questa scatolina appunto troviamo le pastiglie e nel starter kit che costa 34 euro e 99 centesimi andiamo a trovare due pastiglie da associare appunto al alla bottiglina con il rosso che sarebbero per il detergente multi uso due pastiglie per il bagno due pastiglie per il bagno che hanno il colore giallo e due pastiglie per il vetri eccezionale dopo li metteremo alla prova e vi faccio vedere anche come creare il nostro detersivo in modo semplicissimo basta davvero poco i prodotti di questo kit sono tutti all'aloe vera e al limone quindi sono all'aloe vera e al limone è semplicissimo da utilizzare basta riempire con l'acqua del rubinetto aggiungere la clean tub e pulire tranquillamente dove serve quindi in questo caso questo è per molti superfici possiamo utilizzarlo per ogni superficie lavabile le pastiglie per la pulizia sono sempre senza microplastiche come vi dicevo sono biodegradabili appunto e prodotti in germania e con ogni kit come vi dicevo andiamo a piantare un albero e aiutare il nostro pianeta poi l'altro kit che ho ricevuto ecco qui sempre la scatolina è il kit per la pulizia della cucina quindi eccolo qua al suo interno troveremo due pastiglie in plastica due pastiglie di detersivo per la cucina al profumo lilla e due pastiglie per detersivo per piatti al profumo vaniglia una spazzola per piatti in legno e una spugna di luffa anche in questo caso le pastiglie ovviamente sono sempre senza microplastiche sono biodegradabili ai prodotti in germania e adesso ve le faccio vedere quindi queste qua rosa sono per i piatti dovrebbero essere al profumo di vaniglia e questi qua azzurro invece sono al profumo di lilla e è il detersivo per la pulizia della cucina poi dentro mi hanno messo anche altri campioncini ci sono sempre quelli là per il multiuso e per il vetro e anche per il bagno sono stati carini e qua ci sono quattro pastiglie che sono due due per la cucina e due per i piatti quindi loro mi hanno messo un pacchettino con detersivi in più sono stati troppo carini comunque adesso vi lascio al video appunto per metterli alla prova dove andremo a pulire la cucina, il bagno, i vetri e niente così vi faccio vedere quanto sono potenti e come sono semplici da utilizzare soprattutto sono detersivi che oltre ad essere ecosostenibili andiamo ad aiutare anche il nostro pianeta piantando un albero e sono prodotti che comunque una volta che acquistiamo un kit basta che compriamo le pastiglie e durano davvero tanto perché con una pastiglia andiamo a riempire tutto questo flacone che penso che durerà una vita veramente e niente io sono troppo contenta di questa collaborazione ringrazio di cuore la Cleany per avermi inviato questi due kit meravigliosi adesso li andiamo a provare insieme quindi vi lascio il video della dimostrazione sia per come utilizzare, come prepararli e come utilizzare i prodotti per il bene della nostra casa per la pulizia della nostra casa e il bene dell'ambiente è meglio di fare i piatti e pulire la cucina quindi andiamo a provare insieme i prodotti di Cleany prendiamo il flacone lo riempio con l'acqua del rubinetto in questo modo prendo una pastiglia per questo dovrebbe essere per i piatti sì, questo è per i piatti sì, questo è per i piatti è per i piatti è per i piatti è per i piatti vedo che le pastiglie si sciolgono del tutto è rimasta davvero poca quella dei piatti mentre quella della cucina è completamente risolta vi volevo dire che sul sito trovate anche i detersivi per quanto riguarda il bucato e dentro i detersivi del bucato trovate anche il test per testare la durezza dell'acqua in modo da riuscire a dosare al meglio i loro detersivi comunque sotto trovate i link andiamo a provare il detersivo per i piatti tanto la maggior parte è di sciolto è rimasto davvero pochissimo e può essere utilizzato in due modi o è spruzzato direttamente nell'acqua dei piatti oppure dentro i piatti da lavare e passare poi la spegna lo proveremo in tutti e due i modi quindi come vedete abbiamo mangiato la pasta a pranzo quindi a sporco di sugo e poi lo andremo a provare anche dentro l'acqua con gli altri piatti e proveremo sia la spazzolina che la spugna di ruffa la proveremo quella magari con le stoviglie ok Grazie a tutti 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 Grazie a tutti